10 gennaio 2022 Persecuzione e gloria Dal Vangelo secondo Marco capitolo 3 In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presi il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea dalla Giudea e da Gerusalemme, da Lidumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e di Sidone una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da Lui Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronto la barca a causa della folla perché non lo schiacciassero Infatti aveva guarito molti cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di Lui per toccarlo Gli spiriti impuri quando lo vedevano cadevano ai suoi piedi e gridavano Tu sei il figlio di Dio Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse Davide prefigura Cristo, il Messia Egli è presso il re Saul e combatte per lui ma in realtà Saul non è il vero re ma lo è Davide poiché il Signore aveva rigettato Saul La situazione è strana ma voluta dal Signore Accanto al re rigettato ma lasciato al suo posto regna il vero re il quale sembra un suddito e serve il re la casa di Israele Così il gigante Golia è abbattuto con la forza di Dio e così è il vero liberatore di Israele ed il popolo lo riconosce come tale Ha ucciso Saul i suoi mille e Davide i suoi diecimila Gli effetti del rigetto di Saul sono evidenti poiché i fatti dimostrano che Dio è con Davide e non con Saul La gelosia di Saul diventa proposito di omicidio è trattenuto ma il suo cuore viene preso dalla forza di uno spirito di male e alterna un comportamento di pentimento al proposito spesso ripreso di eliminare Davide Comincia a manifestarsi la persecuzione e la doppia personalità di Saul ormai preda dello spirito maligno Questo è l'effetto dell'abbandono della volontà di Dio di non obbedienza al Signore L'uomo diventa preda del peccato ed il demonio a facile presa fino a dominare il suo cuore portandolo alla rovina Gesù ripercorre il medesimo processo rispetto alla classe dirigente del sommo sacerdote insieme a quelli del Tempio Essi sono rigettati dal Signore poiché dominano sul popolo servendo il proprio peccato ma sono rigettati da Dio Il Messia è tra loro ma non lo vogliono e sono sordi oppositori di Gesù ma il livore cresce e la persecuzione segue presto alla immarginazione Ma come con Davide Gesù miete tributi dal popolo che possiede l'istinto semplice della fede Essi lo celebrano come il Messia Vanno a lui folle sempre più grandi Gesù compie miracoli libera dai demoni guarisce tutti predica una parola con autorità portando luce e dottrina come nessuno può eguagliare Gesù è il vero regnante nei cuori della gente il suo regno si sta diffondendo Il consenso della massa non fonda il suo regno ma al contrario è la sua forza che trova spazio nei cuori Egli infatti non trova forza nel numero di persone che lo segue poiché possiede in sé l'autorità che trascina il popolo affascina le anime Il suo regno non è di questo mondo perché non si forma con il consenso popolare e l'investitura delle autorità Bensì possiede l'autorità che viene da Dio Padre e la sua forza è quella che può regnare nei cuori di molti che accolgono la sua parola come quella di Dio Ecco la differenza di un regno umano costruito dagli uomini ed un regno divino costruito da Dio Gli uomini costruiscono il loro potere attraverso la scalata al potere e poi cercano i consensi per poter dominare con facilità cercano di ingannare il popolo con lusinghe e decisioni che diano l'apparenza di servirlo In realtà sono solo tattiche di conservazione del potere Il regno di Dio invece conquista i cuori Il re designato non ha bisogno del consenso popolare per regnare poiché il vero regno è quello di abitare nei cuori di ogni uomo non per prendere le loro vite ma per dare loro la vita piena che viene da Dio Il vero re nutre e fa vivere ogni uomo e la sua forza sostiene ogni persona che fa parte del suo popolo Il re è la vita di Dio che passa ai sudditi e il popolo sa che il re ama uno ad uno i suoi sudditi Egli come un pastore dà la vita per le pecore mentre i governanti non le amano ma le sfruttano e le lasciano in balia del lupo cioè della morte Il passaggio da Saul a Davide non è allora una successione ma una contemporaneità Viene mantenuto il re che corre verso il suo destino in fausto ma il popolo è mantenuto vivo e salvo da un vero re che pur non avendo riconoscimento umano della sua investitura agisce in nome e con la forza di Dio per il bene della nazione Così si avvira la profezia è meglio che uno solo perisca anziché tutto il popolo Il re vero, il Messia è quello che muore al posto di tutti per dare la vita divina a tutti Egli infatti ha il potere di dare la propria vita e riprenderla poiché nessuno in realtà può toglierla Così Dio non abbandona il suo popolo pur lasciando agire l'iniquità degli uomini Dio vi benedica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti